Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video A sorpresa vengono annunciati nuovi supporti 6 samurai Sempre la Rage of the Abyss Sono molto curioso di vedere che tipo di carte ci saranno Teniamo già un grande scien Un scien Molto molto importante Quindi prima di iniziare come sempre ragazzi Invite a iscrivervi e non suonare prima di sempre Aggiornati e ricordo che l'iscrizione ci aiuta tantissimo Io vi ringrazio detto ciò Vediamo che cosa ci aspetta Allora Allora, allora, allora Anarchist monk of the 6th samurai Tuner, guerriero tuner Possiamo evocarlo specialmente col primo effetto una volta per turno Secondo e terzo una volta per turno Se controlliamo un 6 samurai oltre a lui lo possiamo evocare specialmente dalla mano Ok, quindi extenderino tranquillo Molto figo Se viene mandato dal terreno al cimitero possiamo aggiungere una carta magia 6 samurai Ma già rapida dal deck alla mano Ok Poi un mostro 6 samurai evocato tramite sincronizzazione utilizzando questa carta come materiale guadagna il seguente effetto Il livello di tutti i mostri dell'oppo sono ridotti di 1 Che potrebbe essere utile contro dei mazzi Xyz sostanzialmente Perché magari viene un po' sottovalutata la cosa Però se gioco contro un gimmick puppet c'è tutti il livello 8 A parte quelli si modulano Ok Però se li riduci il livello di 1 Con tutto che si modulano Comunque Insomma, ti devo dire O qualsiasi Ma ho detto gimmick puppet perché è quello con i livelli 8 Classico insomma Però potrebbe essere un po' fastidioso avere i livelli sminchiati Poi Instructor of the 6 samurai Perché? Erano tutti così fieri Cioè non è malaccio Però è la corporatura strana che Un altro tuner Possiamo carlo specialmente con il primo effetto una volta per turno Secondo e terzo una volta per turno Se controlliamo 6 samurai Oltre a lui lo evitiamo specialmente Se viene mandato dal terreno al cimitero Aggiungiamo una six strike dal deck alla mano Buono perché ti prendi anche quel colpo Quello lì Che Fa spaccare tutto La cosa brutta è che Ecco Quella carta magia non è rapida Altrimenti sarebbe stata una delle più grandi interruzioni della storia dei 6 samurai Se un mostro sincro 6 samurai Viene evocato utilizzando questa carta Guadagna il seguente effetto I mostri dell'avversario perdono 500 Anche se non è da sottovalutare Oh Oh Abbiamo il boss Abbiamo il boss monster Cioè almeno è quello di copertina Legendary Clash Six samurai Shihun È molto fiero È molto molto fiero Vuole un guerriero tuner Più uno Più mostri Non tuner Sei samurai Primo effetto Una volta per turno Se questa carta viene evocata Possiamo negare l'attivazione Se lo facciamo lo spacchiamo Beh cioè tecnicamente non è neanche hard of once per turno Quindi se io ne ho due Posso negare due volte Potenzialmente Se questa carta sul terreno Sei samurai e nishi Ok questo è un po' più piccolino 1.7002 Generico Prima e terzo effetto Una volta per turno Se viene evocata tramite synchro Possiamo bandire un qualsiasi numero di 6 samurai Dal cimitero Per targettare Altrettanti mostri dell'oppo E li facciamo ritornare In mano Va bene Non è male Ma il coso brutto è che targetta Ok mostri di guerriere Controlliamo con l'anello 500 di attacco E difesa Durante la battle Se viene evocata dal cimitero Possiamo evocare specialmente Uno dei nostri 6 samurai Banditi Va bene Va bene Non è male Non è male Anche perché comunque Rimbalsa Fa un pochino Di sue cose Insomma Non male Non male 6 strike Double assault Che può essere andata In doppio modo Perché è rapida E 6 strike Ok E poi sono finita Va bene Applichiamo uno dei seguenti effetti Se controlliamo Due o più 6 samurai Possiamo applicarli Entrambi in sequenza Applichiamo specialmente Un 6 samurai Con 2000 o meno Di attacco Della mano Al cimitero Cambiamo la posizione Di un mostro Con 2000 o meno Di attacco Coperto in difesa Secondo effetto Durante la main face Possiamo bandire Questa carta Al cimitero Per targettare Un 6 samurai Nel graveyard E aggiungerlo Alla mano Allora Sono molto interessanti Perché hanno dato Sostanzialmente Dei supporti Così semplici Ma funzionali Che vanno bene Nel senso Cioè Due extender Che si evocano Tranquillamente Sono tuner Due extender Veramente Che ti fanno A dino Quando vengono Mandati al cimitero Quindi quando fai L'asincro Ti consentono Di prendere Le carte magia Ti prende La rapida Ti fa interruzione Magari Ti prendono altre roba Ti prende La 6 strike Anche Che magari In determinati contesti Anche quell'altra Che non è rapida Ma comunque potenzialmente Può spaccare Determinate borne Quindi Può essere interessante Quindi due mostri Piccolini Ma che sono Molto utili Hai un negate enorme Che potenzialmente Non è neanche Hard once per turn A quanto pare Quindi Potenzialmente enorme Che ti consente Di prendere Anche Un grande Shagushin Da buttare Giù sul campo In modo Che l'avversario Può attivarti Soltanto Una maggio Trappola a turno In modo Che se c'hai Anche abbastanza Altri mostri C'hai pure Quell'altro E gliela neghi Sostanzialmente Quindi È un negate Buono di mostro Hai questo Che comunque Rimbalza Che potenzia E questa Che comunque Ci consente Di evocare Di evocare De se Sembra E cambiare La posizione Di un mostro Dell'oppo Che non Targetta Neanche Quindi Buono Buono Potrebbe essere Una carta Che vada a coprire Determine Carte Insomma Non è così Malaccio Quindi Sono supporti Molto molto Interessanti Magari Posso dare Qualcosina Al mazzo Renderlo Competitivo Secondo me Ancora Ancora Ci vuole Un pochino Però È un mazzo Che comunque Ne guadagna Ne guadagna Sono abbastanza contento Di questo Detto ciò ragazzi Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Ovviamente Noi Come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto A tutti E un saluto E un saluto E un saluto Grazie.